Salve ragazzi sono ioPokefan99 Oggi volevo dirvi che ho un problema con l'Action Replay perchè non riesco ad aggiornarlo Allora qui ho il CD dell'Action Replay ovviamente per DS, qui ho il gioco di Pokémon bianco qui ho il Nintendo il cavetto USB per collegare l'Action Replay questo qua ok allora ora metto l'Action Replay nel DS e lo accendo ecco ora installo inserisco il cavo USB qui nel computer lo inserisco e lo collego all'Action Replay in quella apertura collegato e opero il mouse adesso mettiamo il cd nel computer nel computer e che che